buongiorno a tutti e ben trovati alla rubrica domanda risponde per parlare di diritti dei docenti e del personale ata tema molto sentito dal tutto il personale scolastico domanda numero 1 un docente impegnato a partecipare come formatore o esperto ad una iniziativa di formazione ha diritto a fruire di un apposito permesso con esonero dal servizio sì il docente ha diritto al permesso con esonero dal servizio ai sensi dell'articolo 64 comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con una sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici nel comma 7 del medesimo articolo è scritto che le stesse opportunità previste per il comma 5 vanno anche indirizzate ai docenti impegnati iniziative di formazione come formatori o esperti dunque la risposta è affermativa domanda numero due quante ore continuative possono lavorare gli insegnanti e il personale ata senza fare una pausa di riposo per gli insegnanti non esiste una norma specifica che imponga il riposo dopo un certo numero di ore di lavoro o un limite massimo di lavoro giornaliero cosa diversa invece per il personale ata infatti dopo sei ore continuative possono come collaboratori scolastici o personale amministrativo o tecnico possono richiedere una pausa di 30 minuti e dopo sette ore 12 minuti questa pausa diventa obbligatoria gli deve essere diciamo concesse in obbligatorietà iata possono svolgere un servizio giornaliero massimo di nove ore ripetiamo che per gli insegnanti questo limite massimo non esiste domanda numero 3 le assenze per infortunio sul lavoro sono calcolate ai fini del limite massimo del diritto di malattia per la conservazione del posto di fatto no in caso di assenza dovuta infortunio sul lavoro non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto proprio il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga completa guarigione clinica dunque se la malattia deriva per infortunio sul lavoro non c'è computo in tale periodo al dipendente spetta una retribuzione intera compresa la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio con esclusione di ogni altro compenso accessorio comunque denominato per i primi nove mesi di assenza speriamo che le risposte a queste importantissime domande siano di utilità a tutti i nostri lettori ci rivediamo mercoledì prossimo seguite i nostri canali social facebook youtube dove andranno in onda dirette importantissime e il nostro sito www.tecnicadellascuola.it arrivederci a tutti grazie a tutti